Sono frequenti le segnalazioni di polpette avvelenate contro animali sgraditi ad alcune persone che giungono alla Polizia Municipale di Torino. Il Servizio Tutela Fauna e Flora della città metropolitana dispone da qualche tempo di un'unità cinofila antiveleno, composta dall'istruttore direttivo di vigilanza Carlo Geimonat e dal suo cane pastore australiano Mirtil. L'attività dell'unità cinofila antiveleno si svolge in collaborazione con il gruppo cinofilo antiveleno regionale. Nel pomeriggio di martedì 13 novembre si è svolta un'esercitazione dell'unità cinofila in aree verdi della città di Torino per testare la capacità del cane di riconoscere con il suo fiuto molto sensibile eventuali bocconi avvelenati. Il ritrovamento di esche e sospette va segnalato per le verifiche del caso alle forze di polizia competenti per territorio, nella città di Torino i vigili urbani o alla città metropolitana di Torino Servizio Tutela Fauna e Flora Corso Inghilterra 7, telefono 011 861 6987 oppure 861 6982. L'addestramento richiede minimo un anno di lavoro partendo dal cane già comunque abituato e cresciuto da piccolo con i fondamentali del corretto rapporto con il conduttore, richiamo, comandi di base, seduto, terra eccetera e poi l'addestramento non finisce mai perché è sempre un allenamento e sempre un addestramento. Il cane non è abituato o addestrato a lavorare in un ambito specifico come potrebbe essere magari il cane che deve lavorare e ricercare sotto le macerie piuttosto che lei ha imparato che deve segnalare qualsiasi cosa di commestibile c'è per cui poi uno può lavorare in ambito urbano e in ambito montagno. In qualsiasi caso in cui sia necessario ritrovare sospetti, bocconi avvelenati, i cani sono pronti a intervenire. Noi come città metropolitana mettiamo a servizio della Polizia Municipale la nostra unità e quindi risulta che alcuni cittadini hanno effettivamente avuto un'individuazione di questi bocconi. Non è a caso, non si viene ovviamente a caso ma semplicemente quando c'è stata una notizia di questo. Purtroppo sembra, come diceva la Polizia Municipale prima, che ci avvenga in molti casi e quindi noi siamo a servizio della collettività per questo.